Il referendum, allora quando c'è stato il momento di andare a votare avevo detto che io non sarei andato a votare, allora c'è stata una reazione, come va a votare il dottor, lui che l'ha sempre vota, lui che vota il referendum, un obbligo civile, eccetera, 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 allora do una motivazione perché non sono andato a votare al referendum, io non ho votato per il referendum, perché questi referendum non sono diventati più un'opinione su una determinata situazione, se fare una stazione, se fare il grattacielo, se non so dire che cosa, se prosciugare in lago piuttosto che in altro, è diventato un fatto politico perché il referendum significava votare a favore o no, quando c'è stato il referendum della riforma che aveva fatto Berlusconi sulla Costituzione, eccetera, che era una bellissima riforma, ma siccome l'aveva fatta Berlusconi bisognava votare anche contro, perché se no non si poteva, questo è stato per conto mio un grande errore. Quando abbiamo votato per l'eliminazione del contributo ai partiti, non ci hanno ascoltati e per molti referendum il voto del referendum non è stato ascoltato ed è stato deliberato, anche, mi ricordo, se non vado al rato per il Ministero dell'Agricoltura. Allora io vado a votare un referendum se devo votare per un argomento, poi se l'argomento è proposto da sinistra e la sinistra propone una cosa giusta, io non mi sento di andare a votare contro perché ha proposto la sinistra. Siamo in un paese dove se le cose sono proposte della sinistra, allora non è che piaccia la destra e se anche la cosa che ha proposto la sinistra è giusta, bisogna votare anche contro perché è la sinistra. Se poi l'ha fatta a destra, non ne parliamo, se l'ha fatta la destra si deve votare contro. Non mi piace questo sistema, io voglio votare in maniera diversa. L'altra sera c'è stata una bellissima trasmissione alla televisione e Aujas, Aujas, c'è una musica che si chiama Aujas. Mi è piaciuto moltissimo perché a un certo momento ha detto a Travaglio non mi piace questo modo di dibattere e anche l'altro giorno in un'altra, Aujas alla sede ha detto la stessa cosa, non mi piace questo modo. Allora se io devo andare a discutere, devo discutere su un argomento, se l'argomento è giusto, venga da sinistra o venga a destra, a me non interessa, io voto se la cosa è giusta. I referendum purtroppo fanno questa fine. Adesso ci sarà il referendum a ottobre, volete vedere, si discuterà se Renzi o non Renzi e sarà un referendum su Renzi, perché nessuno leggerà niente, perché nessuno capirà niente, ma siccome l'ha proposto Renzi si deve bocciare. Questo è il punto. Allora di fronte a una situazione del genere il sottoscritto non vota. Mi spiace, sarò vecchio, rimbambito con tutto quello che volete voi, ma in una situazione del genere. E poi adesso stanno discutendo sull'autonomia. Adesso io mi domando e dico che cosa dobbiamo discutere sull'autonomia. Se d'Argeman caserma dei pompieri, se dovessi dire io il mio parere, dico abbiamo una galleria che non è stata fatta per andare a Roveretto, si diventa pazzi, il sabato e la domenica c'è un inquinamento. Io vorrei che gli ambientalisti fruttassero questo problema e non discutere sul senso degli angeli quando abbiamo code quasi fino a Malcesine con un'intossicazione nell'aria che fa spavento di ossido del carbonio, di interventi va bene, le code vanno bene, la domenica va bene e la gente dovrebbe stare a casa a dare a piedi. Io credo che anche questa storia dell'autonomia bisogna che le cose cambino. Tutta questa gente che disquisisce ottobre che fa la riunione per tutti. Di che a un certo momento invece che fa le riunioni si mettono tutti assieme e finiscano di litigare e i civici, come se ti chiede una lista civica, il pipitì, il popopò, il pipipà, il pipipù, il pet no pet, il pat no pet. È una cosa che i cittadini non accettano e che non si meraviglino perché la gente non va a votare, la gente non va a votare perché detta in termini la che ne piene le balle. Grazie, alla prossima. Grazie.